Siamo in diretta dall'Eurovision Prima Radio, eccoci qua, ciao ragazzi, ciao! Le sentirete delle belle nei prossimi giorni, restate con noi! Francesco rappresenta il nostro paese all'Eurovision, che bella storia! E' una bella storia, anche una bella responsabilità, e io ce la metterò tutta, ci porterò sul palco fondamentalmente la mia spontaneità, come ho sempre fatto, un po' come al festival di Sanremo, quindi guardiamo cosa succede! Non c'è due senza... Eurovision, no, senza te! Ciao, ciao! Da Francesco Gabbani un bacio gigantesco a tutti gli ascoltatori di Prima Radio!